Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio episodio 30... 40 dovrebbe essere 40 è il numero, 40, 40, 40, è molto sciallo ho rimesso la defined ma non provate nemmeno un po' a chiedermi dove si scarica basta cercare su google il maledettissimo come si chiama, defined minecraft tu scrivi, defined minecraft è il primo risultato, è scritto per 32, per 64, defined e texture pack una miseria, il primo che me lo chiede gli spatoli genitali sempre genitali, si, così imparate fuck me che sto però non posso togliere che sennò dopo mi dimentico di allora, molto bella la defined come sempre questa versione è 32x allora, come vedete ho deciso come fare l'arco sono 11 qui, quindi qua c'è il blocco centrale si, e poi penso di fare una cosa anche di questo genere dietro e poi penso che qui ci metterò ogni tanto delle delle cose ma non sono ancora sicuro or dunque andiamo a costruirlo allora così è come viene, come vedete sono 4 blocchi quindi ora bisogna solamente costruire dico solamente perché sono un porco allora, prendiamo della terra e vediamo un po' mi piace molto come sta avvenendo è figo poi quella dei defined è ancora meglio e casa mia mi piace ancora di più quella dei defined non lo so perché allora, quindi ora bisogna fare una cosa di questo tipo ehm due volte allora devo ancora vedere come se mi piacerà perché comunque questo è più lungo e soprattutto non lo vorrò completamente coperto ci devono essere delle finestre perché voglio far arrivare le finestre magari direttamente sopra l'albero così di giorno c'è tutto bello quindi ci sono due ah e naturalmente non andremo a intaccare troppo questo nel senso riusciremo a gestirlo bene direi ho sprecato questo blocco ehm a dire di fare così ora ci serve un blocco solo così a dire il vero a dire il vero questa prima parte non so se la voglio fare ma facciamola per completezza ora faremo i due blocchi quindi così e mi preoccupo anche del fatto che io abbia decisamente poca sandstone così così e poi era così faccio almeno un lato e poi l'altro lo facciamo lo faccio off camera andiamo a dormire prima che si faccia notte fonda sennò spawneranno dei clip per la sopra eeeh 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 non lo so ora ora vediamo come come viene nella sua totalità non è solo 9 blocchi di sandstone lo ripeto lo ripeto non so se questa prima parte la voglio potete farci una mega vetrata non lo so non lo so questo credo so che qui andrebbero di sicuro delle scale al contrario fuck me oh fuck again e cosa c'era una scala così allora ce n'erano delle scale così magari non proprio qui però quello è l'obiettivo fuck senza slab ok ci vediamo appena ho abbastanza sandstone urr lots of sand fuck ah giusto posso fare della sandstone ok ho finito il robo il robo quanti no? 51 probabilmente non mi abbastrò neanche ecco com'è un attimo allora qui intanto va bene inizialmente ci mettiamo delle torce per non far spawnare troppi mob però vi ricordo che voglio metterci delle finestre una lì una lì una qui una qui poi vediamo se qui si può mettere qualcosa si si può fare ci possiamo mettere dei blocchi di vetro che dal lato non si noterà dal lato si noterà ma sembrà comunque bello il problema l'unico problema è è nella parte inferiore eh si nella parte inferiore e allora si noterà dall'interno peccato peccato sono sempre stato ancora meglio quello che volevo vedere è se voglio fare così per tutta la lunghezza eh si lo voglio fare eh la cosa principale però che ancora devo vedere è eh cosa farò qui lì mi piace il fatto delle scale all'incontrario sì mi piace questa questa zona non so ancora cosa potrei fare ho una mezza idea che che involve delle fence ma la potremmo vedere eh successivamente ora qua devo fare altre un'opera mi servirà nuove altre scale relativamente altre scale relativamente tante 61 bene facciamo anche quest'altro lato più più 2 f più f più 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 ok qua bisogna fare lo stesso cosino e qui come ho appena detto sono abbastanza indeciso ho questa mezza idea con i fans che potremmo andare a provare ma ancora non lo so cosa di cui voglio certificare è che se io faccio qualcosa devo avere 5 blocchi 1 2 3 4 5 ok teoricamente dovrebbe ancora poter fungere non ho delle ossa con me ma devo andare a prenderle per forza perchè potrebbe non fungere il tutto non mi ricordo se ho messo qualcosa qui c'è del legno ci sono dei sapling ma io voglio delle ossa allora andiamo a fare delle sperimentazioni mi piace la forma almeno crociamo le dita eh no sto anche sprecando cose proviamo a togliere le scale vediamo se tolgo questi blocchi ah mi serviranno altri bombiol per testare però mi sa dovrò eliminare alcuni alberi oppure dovrei allargare il tutto ma non lo so già penso sia un problema anche di questo sinceramente allora andiamo a vedere nella wiki quali sono i requisiti il requisito minimo sono 6 blocchi che qui comunque dovrebbero venire rispettati cosa che a quanto pare non viene fatta vediamo se io piazzo un sapling qua qua cresce sono rimasto intrappolato qua perchè ha spazio libero anche di qua dobbiamo arrivare a questi no non vuole crescere ho messo a dividere alcuni di questi blocchi quindi l'unica cosa mi viene in mente è di allungarla verso di qui e metterci aspetta si non cresce non cresce non cresce anche se qui potrebbe essere derivato di illuminazione vabbè qua cresce di sicuro no 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 perchè no sinceramente dovresti crescere ecco qua dipendeva dalla luce qui più luce di così non so come fai come metteria io devo farlo crescere no non vuole crescere eh dipende da questi blocchi ne sono quasi certo quindi eh è stato un po' un mezzo fail eh ma non distruggerò tutto solo per un mezzo fail posso comunque eliminare alcune zone o fare altre cose mettiamo tutte le scale eh strano cioè non strano però deludente deludente questa occasione che avevo fatto su via eh qua non posso nemmeno mettere le torce anche questo è un problema assolutamente sto pensando a come poter risolvere eh in maniera diplomatica però l'unica cosa che mi viene in mente di tenere solo tre alberi cosa sarebbe abbastanza ridicola dire il vero però l'unica cosa che mi viene veramente in mente eh non so che dire eh so che qui ora metterò una workbench probabilmente oppure dove la metto mettiamola qui allora facciamoci altri eh wood slab e riempiamo questi intanto ora ora quello che mi preoccupa è che questo non possa crescere non so perché ma questo presentimento che invece si è rivelato infondato stupidi bug delle eh scusate se non parlo ma sono rimasto abbastanza pietrificato perché non l'avevo calcolato bene colpa mia è essere chiara non colpa del gioco perché il gioco è chiaro su certe cose perché proprio a livello di programmazione però mi dispiace ecco cosa invece voglio fare è cercare di fare questo questo sì mi piace e quindi lo faremo anche di là e allora è uno così un'altra così e allora togliamo anche questi e facciamo tutto con il nostro classico slab potrei decidere di allungarla però di qua l'unica cosa mi viene in mente per eh così eh cercare di rimediare vedremo 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 è vero è una cosa tra virgolette positiva se possiamo dire perché eh altrimenti sarebbe stato anche difficile mettere le fonti di illuminazione per farlo crescere di notte ma dettagli dettagli sì tra l'altro è notte eh a questo punto avrei preferito mettere tipo uno più in qua tipo uno qui tipo uno qui tipo uno qui ci avrebbe fatta forse 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 sono ancora in tempo fammi prendere tutto il legno lo imposto e ci rivediamo anche perché non so da quanto sto registrando per questo video è tutto eh ciao a tutti ciao a tutti